Quella di poche ore fa è stata la seconda nottata di neve e gelo per il Nuorese e questa mattina anche il capoluogo si è risvegliato sotto una coltre che ha indotto il sindaco Andrea Soddu a disporre la chiusura di tutte le scuole e a istituire un numero di emergenza 24 ore su 24 a sostegno di fragili anziani. Nel frattempo i volontari della protezione civile VAB e della protezione civile Nuorese e il personale Forestas sono operativi dalla mattina con tre mezzi spargisale e altri tre dotati di lame e spazzaneve per garantire la sicurezza sulle strade cittadine. La raccomandazione del primo cittadino è comunque quella di uscire di casa solo in caso di necessità. Analogo appello arriva anche dal comandante della polizia stradale di Nuro, Leo Testa, per chi voglia recarsi in barbagia. In queste condizioni, finché permane l'allerta meteo, non mettetevi in viaggio senza pneumatici invernali e catene a bordo. I dispositivi antineve, ricorda Testa, sono fondamentali per chi viene verso Nuro dalla statale 131 o deve attraversare Campeda o, peggio ancora, se deve percorrere la statale 389 per andare in montagna. 23 le pattuglie in azione sui percorsi stradali più critici, soprattutto sulla 131 tra Macomere e Campeda e sulla strada statale 389 Nuro, Lanusei. Ed è stato parzialmente risolto nel frattempo il pesante blackout che ieri ha tenuto senza corrente fino a 15 ore 5 comuni montani, Desulo, Tonara, Gadoni, Belvia, Rizzo, a causa dei cavi danneggiati sotto il peso della neve. Una grave emergenza per la quale il parlamentare PD Silvio Lai presenterà un'interrogazione al governo al fine di individuare i responsabili. Un problema, denuncia Lai, legato alla mancanza sul territorio del presidio della società di distribuzione e alla carenza di interventi di controllo e di manutenzione delle linee elettriche.